. Emily Ratajkowski regina di bellezza, il suo outfit in oro è super hot Emily Ratajkowski è una regina di stile, oltre ad essere seguita e stimata sulle passerelle di tutto il mondo, il suo profilo Instagram è un vero e proprio diario digitale degli ultimi trend Le ultime foto pubblicate la ritrauggono in Francia, a Parigi, in occasione degli eventi della Fashion Week 2017, che chiude per quest'anno tutti gli eventi internazionali dedicati alla moda . I suoi outfit eleganti e sensuali hanno stregato il pubblico, mostrando tutto il suo charme negli ambienti parigini, in particolare, l'abito color oro che ha sfoggiato per una delle sue ultime serate era super hot e ha fatto letteralmente impazzire i fan . Oro, bellezza ed eleganza. Non molto tempo fa, Emily Ratajkowski si era lamentata del fatto che facesse fatica a trovare nuovi lavori a causa del suo seno abbondante, i fan però non la pensano nello stesso modo. . . Su Instagram la top model pubblica quasi ogni giorno scatti dei suoi outfit durante gli shooting, gli eventi di gala o i momenti liberi e per lei è sempre una pioggia di like e commenti. . Il pubblico ama Emily e la sua naturale bellezza, compreso il corpo super sensuale. . La top model ha partecipato alla settimana della moda parigina sfoggiando tra i numerosi outfit, anche un abito color oro, aderente, che lasciava intravedere le curve del suo corpo. . . Il vestito presentava un'ampia scollatura sul décolleté e un leggero spacco centrale sulle gambe, la top model brillava sia per il suo viso perfetto, sia per la luminosità dello outfit. . . Molti l'avrebbero potuto definire un po' audace, ma la Ratajkowski ha dimostrato di poterlo indossare con una naturalezza unica. . Anche l'airstile si sposava molto bene con il look, la modella ha scelto di portare i capelli sciolti, leggermente mossi e con un ciuffo laterale. . . Con un abito così importante, il make-up non poteva che essere in stile nude, la Ratajkowski ha sfoggiato un rossetto color carne, un leggero blush sugli zigomi e uno smokey eyes che riprendeva i colori naturali della pelle. . Gli outfit di Emily Ratajkowski per la Parigi Fashion Week. . . La top model è sempre alla moda, ma ancor di più quando partecipa ad eventi internazionali, come la settimana della moda di Parigi. I suoi outfit erano eleganti, sofisticati e sensuali, perfetti per immergersi a pieno nell'ambiente pareggino. . . Su Instagram ad esempio, ha condiviso numerose foto della sua esperienza in terra francese, facendo letteralmente impazzire i fan. . Alcuni degli outfit che ha sfoggiato, oltre all'abito color oro, erano davvero particolari, come l'abito di Dior che ha indossato al Museo Rodin, un look bianco con un ampio spacco sulla gamba e una scollatura che ricordava gli abiti delle antiche donne di corte. . 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